racconterà le barzellette, non ci crederete ma è sempre lui, vediamolo sono Fulvio, sono di finale miglia, ho 31 anni, professione spacciatore ho uno spacciocane, stiamo qua dentro vi racconto l'anno scorso mi sono comprato un bombone di 8 metri oh ma cosa devi cancellare seguo un altro signore, si è più in spiaggia vedi un altro bello lago e dice senta, si tocca lì, ah si tocca ma si prende dei fatti schiaffi grazie cioè abbiamo solo questo cioè tutte le volte noi dobbiamo andare come questo anche perché c'è anche sempre grazie quindi non so se non c'è un altro? lei ha detto come si fa per mettersi in contatto con la nostra agenzia? è normale 051-666-1170, uno viene uno ci chiama e noi andiamo da lui bene, allora regia abbiamo terminato il nostro programma manca pochi minuti 4 4 minuti Scarsini dobbiamo? ho detto 4 minuti Scarsini 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 perché si erano Scarsi Scarsini ma vabbè è come uno che dice ci vediamo mezzogiorno in punto o c'è mezzogiorno cosa vuol dire? ma c'è ancora un appuntamento però vabbè gli auguri li abbiamo terminati? dei nostri amici regia? sì, sì grazie allora che non ci rimane altro che vedere un pezzo finale vediamo un po' di come eravamo negli anni 50 vecchio Scarpone e tamburino del reggimento alcuni mesi dopo Trieste ritorna all'Italia grazie anche alle canzoni questo succedeva intorno al 50 Trieste che era dell'Istria ritorna in Italia questa era anche le canzoni lo stile di quegli anni era questo questa è Polla Colomba di Nilla Pizzi che erano dei primi video musicali e questo era era Nilla Pizzi di dove è di? di Sant'Agata Bolognese benissimo noi dovremmo essere ormai saluti finali e sgoccioli ah abbiamo gli auguri ve lo ci sono